Alla faccia della transizione ecologica e della Taranto turistica, tanto sbandierata dall'amministrazione Melucci, ci troviamo a Taranto, a San Vito, area Parco Margrande, per capirci la zona ex Lampara. Un'area sottoposta a sequestro da tre anni, un'area che giace nel pieno degrado, sommersa letteralmente da amianto, ma la cosa più grave è che l'ipotesi, il progetto, la possibilità per quest'area di essere riqualificata è sospesa in aria, è sospesa a ipotesi fantasiose messe in campo dall'amministrazione Melucci. È vincolata l'ipotesi di riqualificazione alla vendita di abitazioni di case comunali, immobili comunali di proprietà del Comune, che si trovano in via di mezzo nella città vecchia. Ma andando proprio nello specifico, ho qui il sempre pronto Massimo Battista, collega consigliere comunale di una città per cambiare Taranto. E allora Massimo, facciamo proprio il punto tecnicamente. Perché questa zona ha difficoltà a essere riqualificata? Ammesso che mai accada, visto che come ipotizzato parliamo di finanziamenti legati all'ipotesi che si riesca a vendere queste case. Noi Luigi lo ribadiremo sino alla noia. Questa è un'amministrazione che racconta favole. Un esempio lampante è proprio quest'area, zona Margrande, posta sotto sequestro il 3 febbraio 2020. La cosa grave è che ad oggi è stato votato il piano delle allineazioni, sarebbero le proprietà comunali. Qualora si dovessero vendere nel 2024 queste proprietà, ci riferiamo agli immobili di via di mezzo e altri immobili che hanno purtroppo una quota di bassissimo costo, qualora si dovessero vendere questi immobili ci sarà la bonifica dell'amianto di 150 mila euro. E parliamo nel 2024. Quindi sta a significare... Se si riescono a vendere. E quindi se non si riescono a vendere rimane tutto come sta. L'agente che ci sta ascoltando deve sapere che sono passati già tre anni. Nel 2024 ne passeranno altri due. Quindi l'agente di Taranto che non si può permettere un abbonamento in qualche lido privato deve sapere che quest'area è posta sotto sequestro, rimarrà sotto sequestro e qualcuno continua ancora a parlarci di transizione ecologica. Io rivolgo un appello al mondo ecologista. Quella persona che fa parte del direttivo dei Verdi, che ha come delega e responsabile del demanio marittimo, perché non parli di queste cose? Cioè parlano solo della questione... Facciamo nome e cognome. Giovanni Carbotti, massimo rispetto verso di lui. Però chi fa tanto l'ambientalista? Mi ci domandiamo perché su queste problematiche, rispetto alle quali lui ha una specifica competenza, una funzione istituzionale come dipendente, perché queste tematiche, Carbotti, perché non le metti in campo, non le analizzi così come fai in altri campi? Allora diciamocela tutta. Non bisogna essere solo ecologisti sulla questione ILVA. Noi parliamo sempre, Luigi, con le carte. Andiamo nello specifico. Noi quando parliamo, parliamo sempre con le carte. Noi abbiamo rivolto quei siti al dirigente Netti. In relazione all'ultimo punto della vostra ricchezza, siccome la scrivente ufficio non ha eseguito sondaggi preventivi sui terreni in questione. Quindi sta a significare che ad oggi quest'area possa sotto sequestro. E ancora il comune di Taranto, l'amministrazione Melucci, targata, tutto sostenuto dal mondo ambientalista, non ha fatto assolutamente niente. I nostri concittadini, quelli che ci stanno ascoltando, Luigi, devono sapere che anche quest'anno non potranno accedere sulle spiagge libere, perché questa amministrazione continua a vendere fumo e quando lo capirà sarà troppo tardi. E a questo proposito, per concludere, se voi vedete nei progetti finanziati attraverso il PNRR, si parla di questa blue economy, tutti inglesismi, espressioni inglesi per non far capire nulla, in cui si evidenzia che Taranto, proprio per la transizione ecologica, punta proprio in maniera diretta, dritta dritta sul turismo. Favole, soltanto favole. Facciamo vedere queste immagini, un ben di Dio, Massimo, un'area fantastica che ci invidiano. E lì poi la Poseidonia? No, no, adesso, vabbè, sulla Poseidonia ne parleremo. Quella è tutta l'area dove le mareggiate hanno fatto emergere tutto l'amianto, ecco perché l'area è stata posta sotto sequestro. Questo, guardate, è un paradiso, ci invidierebbero in tutto il mondo questo paradiso. I Tarantini devono sapere, come ho detto prima, non voglio ripetermi, devono sapere che quest'area, anche quest'anno, sarà interdetta ai bagnanti che non si possono permettere un abbonamento nei lidi privati. Amici che avete votato l'amministrazione Melucci, Melucci sindaco e i consiglieri collegati a Melucci, farete una triste estate, anzi faremo una triste estate. Ringraziate chi avete votato. Ringraziate chi avete votato.